Bentornati ragazzi, oggi facciamo un quadro completo sulla classifica della Serie A perché ci aspetta un gran finale di stagione sia sulla lotta a Scudetto sia sulla lotta per l'Europa League e Conference e ovviamente anche per la lotta a Salvezza. Partiamo dal vertice, quindi dalla lotta a Scudetto che ormai è diventata una lotta a due tra le milanesi perché il Napoli è scoppiato definitivamente a Empoli, ha subito una rimonta imbarazzante i tifosi del Napoli sono stati nuovamente illusi per l'ennesimo anno e ora attenzione perché la Juve con la vittoria contro il Sassuolo si è portata a meno uno quindi il terzo posto è tutto da decidere. Per quanto riguarda la lotta a Scudetto, l'Inter con la Roma ha dimostrato di essere una grande squadra ho visto un Inter sul pezzo, tutti i giocatori concentrati, determinati un Inter cinica contro la Roma, si è vista proprio la superiorità dei Nerazzurri Brozovic giocatore di un altro livello, ha segnato un gol pazzesco Inter che ha finito il big match, calendario assolutamente abbordabile giocherà stasera contro il Bologna in una partita fondamentale da vincere per i Nerazzurri poi avrà Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria diciamo che Bologna, Udinese ed Empoli non hanno più nulla da chiedere a questo campionato il Cagliari probabilmente sarà ancora in lotta per la salvezza la Sampdoria è da vedere all'ultima giornata comunque un calendario assolutamente più semplice rispetto a quello del Milan che avrà Fiorentina in casa, Verona fuori casa, Atalanta in casa e Sassuolo fuori casa Fiorentina e Atalanta si stanno giocando l'Europa barra Conference League Verona e Sassuolo sono due trasferte assolutamente complicate sulla carta più difficili rispetto alle partite che deve affrontare l'Inter perché sono due squadre propositive che provano a fare sempre la partita offensiva insomma due delle più belle realtà del calcio italiano comunque il Milan con la vittoria all'ultimo respiro contro la Lazio ha tenuto vive le speranze Scudetto quindi magari quella vittoria gli ha dato quel qualcosa in più che serve per poter lottare fino all'ultimo contro l'Inter molto interessante è la lotta per l'Europa League un equilibrio pauroso la Roma è a 58, Fiorentina a 56 con una partita in meno Lazio 56, Atalanta 54 con una partita in meno oggi giocheranno Fiorentina e Atalanta ci sarà Fiorentina, Udinese, Atalanta, Torino due gare fondamentali per i Viola e per i Bergamaschi Fiorentina che ha un calendario sicuramente più complicato rispetto alle altre tre perché oltre all'Udinese avrà Milan, Roma, Sampdoria e Juventus avrà la Roma nell'unico scontro diretto che c'è tra le quattro praticamente attenzione all'Atalanta comunque perché se dovesse vincere contro il Torino secondo me avrebbe ottime possibilità di rientrare almeno in Conference comunque io credo che almeno una delle due romane rientrerà o in Europa League o in Conference League per quanto riguarda la zona salvezza anche qui veramente è una bella lotta probabilmente si deciderà tutto all'ultima giornata perché ci sono almeno diciamo cinque squadre impegnate lo Spezia comunque anche se si trova a più 8 sì ha un calendario complicato perché ha Lazio, Atalanta, Udinese e Napoli però francamente la vedo difficile che molto difficile che tre squadre a fine anno si ritroveranno sopra lo Spezia magari non arriverà quindicesimo un po' più dietro però sarebbe clamoroso se dovessero retrocedere il Venezia esonerato Zanetti francamente io queste cose non le capisco inconcepibile esonerare un allenatore a quattro giornate dal termine ok, lo Venezia ha perso le ultime otto ma non capisco proprio il senso di esonerarlo a questo punto io credo che arriverà ultimo il Venezia a questo punto come avevo pronosticato a inizio stagione tra l'altro il Genoa ha vinto una partita di importanza vitale contro il Cagliari che ha sciupato invece una grossa occasione per mettere fuori gioco il Genoa Genoa comunque che ha un calendario difficile perché ha il derby contro la Sampdoria Juventus, Napoli e Bologna all'ultima poi c'è la Salernitana che ha vinto clamorosamente la terza partita consecutiva in casa contro la Fiorentina la Rechi è diventata una Bolgia una Salernitana in palla e attenzione perché sì, ora l'Atalanta però poi avrà Venezia, Cagliari due scontri retti Empoli, Udinese due squadre che non hanno più nulla da chiedere quindi attenzione perché se fino a qualche settimana fa io non ci avrei messo non ci avrei puntato un euro sulla salvezza della Salernitana ora è assolutamente tutto riaperto e acceso poi dicevo c'è il Cagliari che dopo il Venezia è la squadra che sta facendo peggio lì sotto perché oltre alla vittoria contro il Sassuolo sono arrivate praticamente tutte sconfitte il Cagliari avrà Verona, Salernitana lo scontro diretto appunto Inter alla penultima e Venezia all'ultima quindi è veramente molto interessante sono molto curioso e poi c'è la Sampdoria che sì, si trova a più 5 dalla Salernitana che ha una partita in meno da recuperare proprio contro il Venezia anche la Sampdoria ha un calendario assolutamente difficile perché avrà appunto il Derby contro il Genoa partita che nessuna delle due può sbagliare soprattutto il Genoa e poi avrà Lazio, Fiorentina e Inter quindi si trova a più 5 però la Sampdoria è assolutamente ancora coinvolta in questa lotta bene ragazzi fatemi sapere la vostra nei commenti riguardo alla lotta Scudetto l'Europa League Conference League e anche per la lotta Salvezza iscrivetevi al canale lasciate un like per supportarci seguiteci sulla nostra pagina Instagram Calcio con la F che potete trovare in descrizione e ci vediamo nel percorso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti